Ciao e benvenuto in Modern Acoustic Guitar. Modern Acoustic Guitar è un manuale di chitarra acustica che nasce dal corso omonimo che tengo alla Rock Guitar Academy. È pensato sia per chi suona già la chitarra acustica, sia per chi, pur proveniendo da generi musicali anche molto distanti, decide di avvicinarsi a questo mondo. Attraverso lo studio degli esercizi e dei mini brani imparerai ad ottenere un buon suono sia acustico che amplificato. Affronterai inoltre lo studio delle tecniche tradizionali, delle tecniche moderne, le accordature alternative e l'utilizzo dello slide. Grazie a tutti. Questo metodo è stato realizzato per essere il più divertente possibile. Tutti gli esercizi sono stati arrangiati in generi musicali differenti e realizzati come se fossero un vero e proprio disco. Ogni esercizio è inoltre corredato della sua base per poterti permettere di studiare. Al termine del manuale troverai inoltre quattro mini brani che ti permetteranno di mettere in pratica tutte le tecniche di cui andremo a parlare. Buon divertimento! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.